Buongiorno, sono Claudio Tafui, l'ambasciatore d'Italia in Canada. Volevo ringraziare e salutare Daily Debran per Road to Lemon Grow, un film che parla del rapporto tra un figlio e un padre che non c'è più e le sue radici e lo fa in modo delicato, divertente, interpretato peraltro con grandissima ironia da Charlie Chiarelli e Rossella Brescia. È un film da vedere che vi consiglio. Grazie, grazie di tutto questo e buona visione.